L'Italia si illude con l'iniziale vantaggio, la Furente rimonta della Spagna e indirizza il match. Seconda sconfitta per gli azzurri a San Sadurni da noi, affermati 7-4 dalla Nazionale Iberica, che trova la sua prima vittoria nell'Europeo di casa. Una gara dai due volti per la formazione allenata da Alessandro Bertolucci, capaci di un ottimo inizio gara, poi il crollo con tre reti subite in 41 secondi che hanno ribaltato la partita. Nella ripresa sfida più equilibrata, ma non è bastato per recuperare il gap. Con questo stop, il secondo nel gruppo A degli europei, si conclude la fase a Gironi. L'Italia termina il terzo posto dietro a Portogallo e Spagna. Questo risultato porta all'accoppiamento con Andorra nei quarti di finale. La partita si svolgerà giovedì 20 luglio alle 16. Tornando alla sfida contro gli Iberici, buona prova di Andrea Malagoli. Una rete nel finale di gara per l'attaccante del Tresino. Una traversa e contributo decisivo nel vantaggio azzurro, con un tiro deviato in porta da compagno che ha aperto le marcature nel match a quota 2-29. La Spagna inizia la rimonta e segna tre gol in 41 secondi. A 8-41 Rocca insacca in tapini il passaggio di Bargaiò. Carbaieira realizza il rigore del 2-1 e Iulia trasforma il 3-1 a 9-22. Grau appesantisce il divario nel finale del primo tempo. Nella ripresa Cocco e compagni provano a rialzare la china e arriva il 4-2 con Elia Cinquini al decimo. La Spagna si riprende subito e trova la doppietta di Aragonès e il secondo sigillo di Grau, che hanno la meglio sul neoentrato Sgarria. Per l'Italia, oltre alla rete di Malagoli, gol finale di Cocco, che sale a quota 5 nell'europeo. In casa azzurri, minuti in pista per Alessandro Faccin, Davide Gavioli, Nicolás Barbieri e Morgan Antonioni. Non convocati per la gara, l'infortunato Frani Pignazzar, che salterà il match con Andorra, e il portiere Riccardo Gnata. Nell'altro girone, primo posto per la Svizzera, seguita da Andorra, Germania e Inghilterra. Il tabellone dei quarti di finale, tutti programmati per giovedì. Recita Francia-Svizzera alle 13.30, Italia-Andorra alle 16, Portogallo-Inghilterra alle 18.30, e Spagna-Germania alle 21.00.